sono le 7 della mattina e sta ancora bruciando il diciamo lo stabilimento almeno si vede una grandissima colonna di fumo che proviene dal stabilimento della ex società pergamar una ditta specializzata nella commercializzazione di prodotti ittici che è sita diciamo nella società di chioggia a brondolo a diciamo a poca distanza diciamo da lo svincolo di ridotto madonna l'incendio sta andando avanti perlomeno da ieri sera alle 11 qualcuno dice addirittura ancora prima e sono in azione ma almeno tre squadre di vigili del fuoco ci sono numerosi mezzi di vigili del fuoco che probabilmente stanno tenendo sotto controllo l'incendio di cui onestamente al momento non abbiamo precisazione da darvi ma comunque da ieri tutta la zona è praticamente coperta da questa da questa coltre di fumo che si sente tantissimi ci hanno avvisato che si sentiva appunto un fortissimo odore di bucciato cercheremo di darvi un'altra informazione in seguito come la cosa sarà risolta grazie a tutti